Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui per un altro brevissimo tutorial del software Racketpedia che si chiama Stringing Cloud questa sera vediamo come aggiungere un ordine in una racchetta che il cliente non comparirà nella sua scheda una cosa molto semplice, si fa aggiungi ordine, si cerca il cliente lo si seleziona ok, ha una ultra 100, lo vogliamo aggiungere in un'altra racchetta in un'altra racchetta, in un'altra sempre ultra questa volta mettiamo una UL, identificativo 1, schermo 1619, manico 2 chiaramente vogliamo incordarla ci interessa ripetere l'incordatura che aveva sull'altra, vediamo qui sopra la selezioniamo, viene già il prezzo, attenzione, va bene completiamo l'ordine vediamo che noi lo vediamo, ci serve Sada F1117, sentiamo la nostra scheda, è buona, e noi ci troveremo l'archetta da incordare, Simone di Luca va well, pronta per essere incordata tutto molto semplice, senza dover andare negli archivi, creare cose strane eccetera eccetera grazie, ci sentiamo per il prossimo tutorial grazie a tutti grazie a tutti